L'amore è quando il peso di due corpi messi insieme invece di sommarsi si sottrae La cosa che fa impazzire tutti gli esseri umani sono le hit parade sulle posizioni maggiormente goduriose del sesso. C'è stato uno svedese che ha speso miliardi per pagare delle persone che stessero lì a scopare per degli anni con tutti dei sensori messi da tutte le parti in tutte le posizioni possibili e immaginabili per scoprire scientificamente quale fosse la posizione sessuale più goduriosa in assoluto che poi bisogna vedere se è quella proprio in assoluto oppure la più goduriosa quando ho tutti dei sensori dappertutto perché un po' cambia e la prima classificata è la posizione del cucchiaio uso sempre il sistema fotografa lei, fotografa lui, sovrapponi, agita ok, posizione di lei, così, ok, posizione di lui, dietro di lei, uguale faccio una panoramica così capite meglio ok, però la coppia va sollevata, messa orizzontale, appoggiata su un letto che stanno più comodi la seconda posizione classificata che però è la prima in un'altra ipareida americana è la posizione del gatto questa ve la faccio vedere sul tavolo, state attenti perché è proprio... allora posizione della donna, così, scusate, queste posizioni sessuali vanno fatti nudi non che le fate con i blue jeans e poi dite che sono scemo io, ok? allora, posizione della donna, così, il maschio si mette sopra di lei ma invece di fare le flessioni sulle braccia che non serve un cazzo dal punto di vista sessuale praticamente il maschio si abbandona completamente sulle spalle proprio così, eh? completamente rilassata, eh? e mentre lui sta così rilassato, lei sotto praticamente ondeggia così, per cui lui sopra praticamente sta così e va in gondola, no? 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 no?